Chiedono un'immediata riapertura del reparto di malattie infettive i segretari della CISL Funzione Pubblica Salvatore Vitulano ed Alfonso della Porta. I sindacalisti definiscono grave e poco comprensibile la situazione determinata se a seguito dell'accorpamento dei reparti di broncopneumologia e malattie infettive nel Dea di Nocera Pagani Scafati. La riorganizzazione durante l'emergenza Covid ha portato alla soppressione del reparto di malattie infettive a caso di un'emergenza al pronto soccorso di Nocera Inferiore che aveva determinato il trasferimento dell'unità operativa complessa da Nocera a Scafati. Vitulano e Della Porta si chiedono quindi come mai non si proceda alla riattivazione immediata della struttura visto che l'ospedale non si trova attualmente in una fase emergenziale. Si tratta di un reparto di eccellenza, punto di riferimento per tutti gli utenti dell'area nord dell'Ausl Salerno e in cui confluivano i cittadini sia di tutto l'agro nocerino sarnese che dei paesi della provincia di Napoli adiacenti. I sindacalisti elencano a margine anche altre problematiche. Non si capisce, continua la nota, perché nonostante la sollecitata impossibilità di conferire incarichi al personale del comparto in assenza di apposita regolamentazione è stato individuato un bad manager che ha assunto l'onere di ergersi a incaricato di funzione organizzativa intervenendo sulla turnistica lavorativa e l'organizzazione dei servizi pur in presenza di incaricati di funzione di coordinamento creando sconcerto, incomprensione e disagi. La CISL Funzione Pubblica inoltre denuncia che utenti provenienti da valle e da zone periferiche limitrofe si vedono costretti a venire prima a Scafati, fare accettazione e per poi vedersi rimandati al reparto di malattie infettive di Agropoli. La missiva chiude affermando che sarebbero stati inoltre individuati locali in un reparto all'interno dell'ospedale di Scafati al primo piano dove prevedere l'attivazione di prestazioni di pronto soccorso. Ciò potrebbe comportare però difficoltà agli operatori a cominciare dal trasporto del paziente nei locali previsti senza alcuna protezione ed individuazione di percorsi finalizzati a tutelare operatori ed utenti. La CISL Funzione Pubblica conclude quindi chiedendo la convocazione di un vertice per discutere di queste priorità.